Il rosmarino veniva usato per scopi medicinali, prima di essere consumato come cibo. Nota per il suo profumo, questa erba viene aggiunta a molte ricette in cucina. L'uso più comune del rosmarino è sotto forma di tè. Il tè di questa pianta resistente, che riesce a rimanere verde tutto l'anno, fa bene a quasi tutti i problemi metabolici se consumato nella giusta quantità e tempo. Quali sono i vantaggi del consumo di tè al rosmarino? Quando e quanto dovrebbe essere consumato? Esaminiamo insieme. Puoi iscriverti gratuitamente al nostro canale senza perdere i vantaggi. Siamo qui con un nuovo video informativo ogni giorno. Quali sono i benefici di un bicchiere di tè al rosmarino al giorno? Il tè al rosmarino è molto efficace per i problemi digestivi. Stimola il metabolismo nel sistema digerente e nutre i batteri benefici nell'intestino. Questo effetto probiotico massimizza l'assorbimento del cibo e rimuove i batteri nocivi e le tossine attraverso la digestione. D'altra parte, se usato correttamente, il tè al rosmarino aiuta a ridurre la quantità di colesterolo cattivo nell'organismo con i componenti che contiene. È efficace nel prevenire l'occlusione vascolare, regolando la quantità di lipidi nel sangue con i suoi contributi al sistema circolatorio. Inoltre, ricco di antiossidanti. Il rosmarino è piuttosto alto nel riequilibrare la glicemia. Un bicchiere di tè al rosmarino può soddisfare il 50% del fabbisogno giornaliero di fosforo. Questo rapporto è molto importante per la prevenzione del diabete. Con il suo contributo sia alla glicemia che all'apparato digerente, aiuta ad eliminare gli edemi causati dall'eccesso di sodio nel corpo. È efficace nel trattamento di problemi come l'accumulo di scorie di tossine nel sangue osservate nelle persone con disfunzione tiroidea. Tè al rosmarino per una struttura cerebrale più sana. Gli acidi vegetali ottenuti dalle foglie di rosmarino prevengono il deterioramento dei neuroni. Migliora le funzioni cognitive, proteggendo la struttura cellulare dalle neurotossine e dai radicali liberi. D'altro canto, il tè al rosmarino è molto ricco di antiossidanti che aiutano a migliorare la salute generale e prevenire i danni causati dai radicali liberi. Grazie al suo alto contenuto di vitamine A e C, magnesio, calcio e potassio, rafforza il sistema immunitario e crea un forte scudo contro le malattie. La sostanza carnosolo nel suo contenuto è protettiva contro il canro. Ha anche proprietà antitumorali e antibatteriche. Cerca, trova e neutralizza le cellule cancerose dannose nel corpo. Quindi, c'è del male nel consumare il tè al rosmarino? Quanto e quando dovrebbe essere consumato? Prima di tutto, poiché il tè al rosmarino aumenta la circolazione sanguigna, i pazienti con pressione alta dovrebbero essere misurati e attenti quando consumano questa cosa. Il rosmarino, invece, che migliora l'attività digestiva, influisce negativamente sull'attività digestiva, mostrando intensi processi nell'intestino e nello stomaco, se usato in modo eccessivo e inconsapevole. Inoltre, l'estratto di rosmarino viene utilizzato attivamente nella produzione di farmaci e può interagire con i principi attivi dei farmaci. Consulta il tuo medico prima di usare l'erba di rosmarino, soprattutto se hai farmaci regolari. Quindi, quanto e quando dovrebbe essere consumato il tè al rosmarino? Il pepe va consumato al massimo un bicchiere al giorno. Dovrebbe essere assunto per una o due settimane dopo lunghe procedure, durante i normali periodi di consumo. Alla luce di queste informazioni, puoi aggiungere il tè al rosmarino alla tua dieta e beneficiare dei suoi benefici a lungo termine. Se ti piace il nostro video, non dimenticare di mettere mi piace e iscriviti al nostro canale se non sei ancora iscrivito. Stai bene, informati! Stai bene, informati!